L'associazione Cultura e Canto Corale La Vega di Milis, diretta l'associazione da Gianni Burdu. Intanto guadagnerò l'ingresso, facciamo un saluto anche nei loro confronti, così un bell'applauso e mi raccomporto, è piacere essere coi protagonisti di questa parte del concorso. Amigos è il titolo del brano, di Miu Maiku ha composto i versi, mentre Gianni Burdu, che dirigerà l'associazione Cultura e Canto Corale La Vega, avrà anche il piacere di freggiarsi del titolo di autore della musica e quindi vi lascio in loro compagnia con gli amici di Milis. Grazie. 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 O, O, I, B, O, O, I, B, O. O, I, B, O, I, B, O, I, B, O. O, I, B, 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 O Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.